Padre nostro per segno in cielo, sono pronto a salire da te. Un sacerdote italiano. Ride magistra! Un grande attore italiano. Che sei italiano pure te, un lembo della padre padre! Ma che ci fanno in Messico? Io sono Carrasco, io sono la Revoluzione! Tanto lieto, Cavaliere Guido Guidi! Di questi tempi poi... Insomma, il posto sbagliato nel momento sbagliato. Vittorio Gasman, Paolo Villaggio, in una esilarante commedia di Sergio Cornucci con le musiche di Ennio Morricone che centriamo noi con la rivoluzione. Venerdì alle 23.30, 7 Gold.